Sotto la pioggia il Trestina cala il Tris battendo il Romagna Centro fra le proprie mura amiche. Vittoria doveva essere, vittoria è stata per la squadra di Silvano Fiorucci a caccia di punti pesanti in chiave salvezza. E con una prestazione mix di grinta e determinazione i Tifernati ottengono tre punti importantissimi. Venendo alla cronaca, pronti via, il Trestina prova subito ad impensierire la formazione di Nicola Cappedelli, verticalizzazione di Morvidoni che cerca in profondità Ridolfi, ma Sarini in uscita sventa il pericolo. Al quinto minuto la risposta del Romagna Centro, cross di Tola dalla destra di intervento di Bagatti, ma la palla si spegne sul fondo colpendo la rete esterna. Al sesto minuto contropiede di Bellante che sul più bello calma male il tiro e la conclusione non ottiene gli effetti sperati. Al nono minuto cross del solito Bellante e colpo di testa di Ridolfi, ma si salva il Romagna Centro che evita il peggio. Passa un minuto e sul capovolgimento di fronte è Pier Federici a tentare la fucilata dai 25 metri con Garbinesi che si salva come può non riuscendo a trattenere la palla. Intervento miracoloso sempre di Garbinesi, questa volta al quarto d'ora su un tiro a botta sicura di Bagatti, intervento del porterino del Trestina che vale un gol. Al ventitresimo si sblocca la partita, azione molto bella di Villanova, cross rasoterra al centro per Bellante che trova il tempo giusto, si inserisce perfettamente e da due passi spedisce la palla in rete per il vantaggio degli uomini di Silvano Fiorucci. Il Trestina non si ferma e nel giro di tre minuti trova la via del raddoppio. Al ventiseiesimo sul primo calcio d'angolo battuto dal Trestina Morvidoni scodella pallenare e Ridolfi svetta di testa siglando proprio il 2-0 in favore dei bianconeri. Al trentaseiesimo sfiorano perfino il Trissiti, Fernati con una gran botta di Ridolfi che però non c'entra allo specchio per questione di centimetri, si chiude qui il sipario della prima frazione di gioco. La ripresa si riaccende immediatamente con Ridolfi che ruba palla e parte in velocità, l'assistente alza la bandierina, non è dello stesso avviso il direttore di gara che lascia proseguire ma il centro avanti del Trestina si lascia ipnotizzare da Sarini in uscita di emergenza. Al secondo minuto il Romagna centro si crea l'occasione per riaprire la gara, contatto in aria fra Maggioli e Brunetti e la terna assegna il calcio di rigore. Dagli 11 metri Pier Federici spara alto e sciupa una ghiotta occasione con il Trestina che mantiene inalterato il parziale di due gol di scarto a proprio favore. Gol sbagliato e gol subito, recita più o meno così una legge non scritta del calcio ed al tredicesimo sul quarto calcio d'angolo conquistato dal Trestina Villanova scode allenare a tocco di Brunetti che infila la palla in rete sulla propria porta e Tifernati che si portano dunque sul 3 a 0. Al trentatresimo accorcia le distanze il Romagna centro, punizione di Lorusso, palla che si infrangia all'incrocio dei pali e sulla ribattuta il più lesto di tutti è Casadei che sigla il 3 a 1. Gol della bandiera della formazione romagnola e parziale che rimarrà immutato da qui al termine dell'incontro. Trestina dunque che batte il Romagna centro per 3 a 1. Siamo partiti bene, abbiamo creato tre occasioni clamorose e purtroppo non abbiamo fatto gol nel calcio con da far gol. Subito dopo l'occasione clamorosa che abbiamo avuto con la parata dove Bagatti ha tirato Coppossicur la respinta, loro dopo un minuto hanno fatto gol. Quindi bravi loro a concretizzare quello che avevano fatto e dopo due minuti abbiamo ripreso il gol sul calcio d'angolo. Quindi una partita che sembrava comunque nelle nostre mani perché le occasioni le stavamo creando noi. Loro si sono trovati sul 2 a 0 e hanno mantenuto questa cosa fino alla fine. Purtroppo abbiamo sbagliato il rigore ma l'azione prima hanno avuto anche loro un'occasione per andare sul 3 a 0. Noi abbiamo sbagliato il rigore ovviamente quello pesato. Noi abbiamo preso il terzo gol su un calcio d'angolo ancora, una rispinta. Dato così oggi purtroppo negli episodi sono stati più bravi loro. Quindi bisogna fargli complimenti. Noi sicuramente dobbiamo migliorare perché abbiamo preso dei gol che si poteva fare meglio. E bisognava essere assolutamente più cinici nelle palle e gol che abbiamo avuto. Sì, partita pesantissima, punti pesantissimi. Siamo partiti non bene. Loro hanno preso i primi dieci minuti, insomma abbiamo sofferto da morire. Loro hanno capito meglio le caratteristiche del campo e sembrava. Quindi loro hanno fatto meglio. Poi siamo andati in vantaggio e credo che alla fine il risultato sia più che meritato perché abbiamo avuto anche altre quattro occasioni. Quindi per chiuderla definitivamente penso che sia un risultato importante, positivo e soprattutto meritato.